eeeh bella tuttriassi oggi il nuovissimo video oggi guarda tu bella ipoli oggi oggi sponsorizzeremo un mio amico allora ok oggi lo sponsorizzeremo si chiama allora andiamo qua con un link in descrizione si chiama eeeh bella tuttavia eeeh bella tuttavia eeeh bella tuttavia perchè mi sono scelta oh no dove è corte corte corte.it allora questo allora eeeh iscrivetevi al canale allora adesso ve lo metto qua sotto in descrizione ok ciao 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 ciao